Siamo sempre stati al fiato degli italiani e oggi continuiamo a lavorare ogni giorno per esservi ancora più vicini, mettendo tutta la nostra energia a sostegno del paese. Che tu sia già cliente o che lo voglia diventare, vieni sul sito enel.it o chiama il numero verde per scoprire insieme le nostre soluzioni, perché ci sono momenti in cui tutti noi abbiamo bisogno di più energia. Grazie. Grazie. Grazie.